è questo che state raccontando la storia di una donna il tuo nome irene c'è qualcosa in lei che non mi convince cosa non lo so è vero ma secondo me dire ne ti puoi fidare non capisco cosa ci trovi in lei da oggi se ne tocca ne spanova non mi trasmetti niente non è a me che devi dare qualcosa ma a te stessa ma secondo te sono una bravatrice chi sei tu io ti ho scelto per fare un personaggio e tu non sai nemmeno chi sei a me non piacciono le cose incompiute non ho riscoperto la pellicola la pellicola comincia tutto da lì no l'amore ha un solo termine di confronto la morte cosa c'è mi sembra niente di interessante la morte è l'unica bella pura conclusione di una grande passione è solo l'amore che termina con la morte è amore ti posso fare una domanda dimmi le ferite di cui ti vergogna trovo le tue ferite trovole in fretta faccio ancora in tempo a cambiare idea vaffanculo Emanuele la parete è vuota è per me alla tua età non ricapitano spesso certe occasioni e faresti meglio non farteli scappare cosa penseresti se non fossi più sicuro di fare lo spettacolo questo spettacolo per me è fondamentale stanno già vendendo i biglietti mi ne frego dei biglietti ti importa solo di te stesso uno spettacolo incompiuto da un romanzo incompiuto tu sei pazzo la solitudine vera cioè sofferta porta con sé il desiderio di uccidere e quindi